Sono 4 giorni di gara con un gran premio finale domenica 5 maggio con un monte premi di 25.000 euro e la partecipazione sarà di esordienti e professionisti che ci metteranno in altezze di varia tipologia dalle più piccole alle più alte fino a 1,45 m. È importantissimo perché è un evento che rivede l'equitazione dei salta ostacoli a grandi livelli con questo concorso 4 stelle nazionale con la partecipazione di più di 300 cavalieri con altri cavalieri in lista di attesa e questo non si vedeva da moltissimi anni a Napoli e siamo fieri di aver riportato la grande equitazione di salta ostacoli in questa città. Una mattinata importante perché c'è questo concorso nazionale, si inaugura questo concorso nazionale che ancora una volta accende i riflettori sulla nostra città, tra l'altro su uno sport forse un poco in sofferenza in questo momento a livello nazionale che è ellipica, però Napoli vuole coniugare insistentemente e quotidianamente il rilancio della città con gli eventi grandi o piccoli di tipo sicuramente sportivo.